buonasera buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale mi raccomando pollice su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché il canale ha bisogno di crescere ricordo che l'istruzione gratuita ma non c'è forse neanche bisogno di dire ma così facendo date un sostegno al canale ben detto questo io quest'anno vi tengo vi tengo aggiornati passo passo allora andiamo a vedere cos'è successo in questi in questi ultimi periodi quindi abbiamo abbiamo il direttore sportivo e abbiamo il mister il mister sarà affiancato da cristiano agnelli ex ex capitano del foggia bene detto questo come il nostro presidente giuseppe corrado ha fatto ha fatto un diciamo una dichiarazione su radio sportiva ma ricalca fondamentalmente quello che aveva detto sostanzialmente alla chiusura della voce degli spogliatoi se vi ricordate trasmissione è seguita cosa ha detto sostanzialmente ha ribadito il concetto quest'anno sarà fatta una squadra per insomma una squadra giovanile io credo è una squadra giovane saranno tre quattro innesti importanti ma non di più non di più perché quest'anno si si tende a diciamo alla lanciare nuove proposte e nuovi giovani eccetera eccetera questo sarà quindi per quest'anno non verrà sicuramente ammazzato il campionato da parte del pisa ma è stato ribadito perché aquilani ha un biennale con con la postilla del rinnovo per un terzo quindi cosa sarà io credo che sarà un discorso un centrocampo e un attacco sicuramente rinforzati ma perché perché aquilani predilige un 4 3 3 un 4 3 2 1 poi dipende da cosa avrà sotto mano questo è il discorso quindi quest'anno io non credo di ecco stiamo già dicendo si è stata già dicendo se il nostro obiettivo è sono i playoff ma se non ci arriviamo insomma non ci strapperemo i capelli questo è il discorso quindi sono stati già chiari no ma concettualmente quello che è stato detto è ribadito ripeto nella trasmissione 50 canali presidente è stato chiaro a questo punto ecco noi ci aspettiamo insomma mantenere almeno la categoria io credo che a questo punto per quest'anno poi sembra che le intenzioni siano nel campionato 24 25 gli danno una sterzata speriamo poi magari non è detto è non è detto poi con quello magari con gli acquisti che magari arriveranno e sarà appuntellato il centrocampo all'attacco magari potremmo trovare insomma potremmo avere un qualcosa di diverso e a tal proposito io poi vi linko un articolo è lo linko qui sotto insomma quindi andatevelo andatevelo a leggere interessante riguardo a questo discorso insomma più o meno comunque queste sembrano essere le intenzioni della nostra società e poi già ribadito ma io l'avevo detto anche nel video scorso che la squadra a rovetta non sarà pronta forse un 50 per cento 60 per cento ma non credo oltre quindi niente ci vuole pazienza la società ha chiesto pazienza ai tifosi perché gli acquisti saranno tanto calcio mercato parte il primo di luglio ufficialmente chiude primo di settembre se non erro gong sarà il primo di settembre quindi tempo c'è stare tranquilli stare sereni aspettare e noi quello faremo la campagna abbonamenti sembra che esca qualcosa alla metà di luglio quindi all'inizio di rovetta se non mi sbaglio insomma o giù di lì è più o meno quello dovrebbe essere insomma il discorso campagna abbonamenti eccetera eccetera beh questo è quanto non si sa null'altro ci saranno sicuramente delle partenze come avevo detto nel video scorso non mi sto qua a ripetere se se vi è sfuggito qualcosa andatevelo a rivedere perché già avevo fatto una lista dei possibili poi attenti eccetera per quanto riguarda gli entranti sta parlando ma ma sono solo parole chiacchiere niente di più quindi inutile stare qui a fare discorsi vari però io vi tengo aggiornati quest'anno e sintonizzatevi rimanete sintonizzati sul canale perché io vi aggiorno passo passo su quello che saranno e sono le intenzioni della società quindi seguitemi anche per quanto riguarda il discorso abbonamenti eccetera eccetera quindi seguitemi e niente che dire siamo qua speranzosi e in attesa di novi di buone novità niente io vi ricordo una cosa vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima